Bella a tutti ragazzi qua, Cris77, bentornati sul mio canale Sono qui oggi col primo Hunger Games della mia serie insieme a Trafalgar Fuffi Ciao ragazzi E allora, le brevi regole 10 minuti immunità, chi muore prima di 10 minuti può rientrare Di divertirsi e non rubare il carbone dagli forni Vabbè, questo è il mio canale, possiamo procedere Allora, sarà un Hunger a team Bella Ok, perfetto Bella Vediamo i team I team Elfo, Pessimo Karma e Pietro Colucci Il team Fantasma sono Black e Poker di Jolly E poi io e Trafalgar Fuffi Gli Sparpans Trafalgar Fuffi Allora, sarà un Hunger Games a team Quindi ogni team avrà un alleato E nel caso della morte di uno, l'altro può continuare Nel caso vinca uno dei due, ci sarà una vittoria di coppia Allora, iniziamo Quindi ragazzi, possiamo pure iniziare, prendete dalle casse Poi, ora possiamo dire che devi abilitare te, hai ragione Ti tolgo il volo e me lo tolgo anch'io La tutta della fiuma Ora siamo puliti e lindi Chiedi se sono tutti pronti Sono tutti pronti raga? Ma com'è finita? Faccio io, dimmi che Albia parte tutto Vabbè, Albia parte tutto 3, 2, 1, via Oddio che figata Vedete tutto quello che potete andare alle casse Avete 10 minuti per scappare Cioè, non so ma che scappare Per organizzarlo Porca troia Minchia tensione al massimo Porca putta Eh, ammazza se è attenzione, oh La tensione è proprio Stratto starica Via, fuggiii! Stanno stante in giro, vero? Eh, non vi meravigliate se morite a causa dei mob, eh Dovete fare attenzione Ah, raga, non so se ve l'ho detto ma Quando morire Quando morite Quando non potete ancora attaccare Potete, diciamo, rinascere E continuare a giocare Andiamo Sto morendo bruciato io Stai morendo bruciato adesso, tra poco, infatti Io non voglio morire bruciato Ho trovato tutto Invece sì Iniziamo Cioè, bo E ora? Iniziamo bene Adesso devi continuare Dili che puoi rientrare Rientra dalla porta lì e può continuare Sto morendo Cioè, ma sono l'unico demente che muore bruciato Sì L'unico Sì, ma non vale però ma taggato Oh, porca puttana, sono per morire anch'io bruciato, ragazzi Eh, sto per morire pori cristiano, ho detto bruciato No, col fantasma mi sembra di volare, voglio premere due volte Ti piacerebbe, eh, 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 eh Con il mio diamante Un parkour Occhio con il parkour che c'è molto alto rischio di morte Alto rischio Il diamond Il diamond Possiamo darmi Madonna santa, mo' cazzo, sempre sullo stesso punto Oh Oh, cazzo, un creeper di merda Mero un pelo Oh, metti il diamante Dai, 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 fidati Ah, ma già c'è qualcosa là sopra, ma vaffanculo allora Dato che a team, ragazzi, dato che gli altri non mi sentono posso dirvelo Se gli altri si fanno furbi a team si possono passare il diamante che si prende all'inizio Naturalmente non sono troppo furbi certi, allora non lo faranno Noi siamo furbi, lo facciamo Furbi Esatto, anche se la spada si è presa lì Dettaglio Quando minerale 8 di 10 8 di 10 Sì, tieni, te lo do, vieni qui, che almeno ti farà spadito Fiero Non lo so Arrivo io Dove sei? Sieni qua Veloci, prendilo, 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 prendilo Mi vuol dire Fiero Terzo Va di ricognizione 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 Ma pippa Trovo le cavalli You are the pippa Surprise, motherfucka Perché io l'avrò tenata di due Non anch'io, e non c'era niente a parte i titoli Io no, io ho quattro Te l'avrò tenata Ya Però non ci gioca o quattro Se siete interessati appunto a queste serie di Younger Games Volete partecipare, comparire nel mio futuro prossimo Figo Nel mio prossimo video Potrete appunto iscrivervi e scrivere nei commenti di che volete partecipare Sì, scappiamo allora Il più semplice cos'è Anche se l'avevo già detto già io Bravo Uccidilo, ragno, uccidilo Avrei preferito che fosse di giorno E dai, uccidilo, ragno di merda Eeeh Scusate, paroline dolci, ehmica salata Esatto Certo, vieni con me Vieni, vieni Vieni Attenzione Volano minacce C'è la spada del ferro Eh, non c'è un niente Ma dovete tenermi tutti quanti un costito Madonna Io invece c'ho un creeparatoso C'è mio 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 You're love me You're love me You're love me The lines are alive, the diamonds Where is my chest? Da, i tuoi armani I understand si ti posso dire qualcosa Più chest Sì Mi ho trovato due Oh, mamma mia! la valle dei ranni digli che in caso di sconfitta devono essere espulsi ora cado lo so creeper non so se è permesso ma tipo uno scuoto mi ha droppato l'arco incantato ma non c'è uno scheletro ha dato l'arco incantato fammi capire yes because yes o l'ho ucciso ma dato l'arco incantato non so come cavolo chi che tiene marco vabbè dai ragazzi lo sappiamo tutti sono così bello che me l'ha data ma guarda anche se non so questo mi ruba il cibo ok io vi d'accordo io vi d'accordo è la rubata a me dammi cibo dammi cibo minaccia la sangue che se ne ha detto se gli dai cibo minaccia la sangue minaccia la sangue minaccia la sangue non mi ha detto ma tu sei scema ma tu sei scema c'è sto rumore ma non ci far caso mancano quattro minuti guarda quattro minuti no ragazzi non ti preoccupare bastano guarda guarda ora crepa di nuovo c'è ora si che sono a posto rammenta che non vale rubare le cose raga ve l'ho già detto ma non vale rubare le cose se vi chiedete perchè sto ripetendo tutto quello che dice Cristian intendo gli scritti perchè Cristian è il mio bellissimo cane mi ha mangiato l'auricolare questo già l'avete detto all'inizio signore ma il bello è che Cristian non gliene fregava niente e ha continuato a registrare e a sbattere il muro quel bellissimo microfono mi sento lento ciao signor tripe perchè qua ci manca della cobblestone a terra fabbrizambe eccomi scusami fabbrizambe ma sto registrando se capisci perchè non ti ho invitato vedrai questo che cazzo sto dicendo capirai perchè non ti ho invitato guardando questo video perfetto anche se non lo guarderà mai lui è uno di quelli che li guarda sempre i miei video quanto manca? 8 minuti no nè vero mancano 2 minuti c'hai il cronometro madonna fanta che paura no però sto facendo a occhio ora cado alla fine lo sai mi cazzo sei bene non so cosa dire se ha occhio o si dire ovviamente è vuota figurati che devo che faccio un po' la situazione madonna fanta ma se non mi ruba il cibo siamo a posto posso uccidere un po' mi mancano due lingotti di ferro per farmi il colto cazzo non so io so di tipo l'unico che non c'ha l'armatura no non mi sa che ti sbagli su questo non mi seguire non mi seguire dai ti faccio compagnia io tra ho paura molestatore ho visto tu eh dai però il ragni mi fa consumare la mia spada vabbè la spada in oro ma va già non vedo un megasistone io ho andato a prendere no e l'ho preso già io sul tetto no uno con un parkour impossibile ma io non ti ho voluto ahia minchia sto facendo dai non ce lo pezzo d'armatura mi manca regga dimmi chi va della perro l'ho trovato tanto io ho due di belle ma sembrate a me? siamo proprio bene qualcuno non vale qualcuno fa la spada di diamante Cristian comunque siccome tanti ma tanti ma tanti ma tanti ma di tanti di quella gente ti chiederà dove cavolo è scaricata sta mappa l'abbiamo fatta dovrei fare un video su come si spiega va bene ogni mappa non so questo guarda che faccio gli hunger e la faccio vedere dove lo prego no 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 che cazzo dici? manca ancora tipo un minuto questo è quello che dici tu? ma nemmeno due minuti due minuti quattro minuti fa beh l'ho detto due minuti in modo teorico non so di preciso quanto mi suona la sveglietta però non controllo adesso dove è iniziata? no ancora no manca poco poco però digli che manca poco poco appena suona il dream 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 ha detto che manca poco poco quindi allontanati da tutti tranne quello del futuro ah moglie parkour di merda dove ci troviamo noi? non avevamo detto che dovevi stare serio? è già serio mi tanto digli di star calmo di non fare baldori no? Cristian ha detto di star calmo sto calmo non se stai calmo vorrei capire quando sei arrabbiato come sei spizzofre si va Trafalgar quanto hai di armatura? ti serve qualcosa? si mi servono il petto il petto di polo eh raga mancano 25 secondi pessimo Cristian mi ha dato l'autorizzazione di espedirlo non è vero si ma c'è questo questo qua? oh mancano 45 secondi eh 25 secondi raga 45 secondi trovi troviamoci al centro dammi qualcosa vieni al centro Trafalgar veloce dammi qualcosa scusa perchè mi sono lì pre incantato serve quando vai vicino al coso al... come cazzo si chiama? non mi ricordo non mi ricordo ne siamo all'inchiudine tu metti il libro la spada te la incanta vieni al centro veloce dammi davanti se non ti amo dammi davanti se non ti amo allora io attivo te tu attiva gli altri ah pure dirgli di stare tutti un attimo adesso legge un attimo no non posso attivare aspetta aspetta ok attiva gli altri da quando attivi digli 10 secondi ma chi è questo che vuole? da quando vi attivo contate 10 secondi e poi potete affrontare 1 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 12 11 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 Vai, 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 veloce No, non ci posso credere, me ne manca una Me ne manca una Mi chiediamo a scappare, non scappare Chi fa la carità? Vieni, andiamo a cercare, stiamo insieme però Ok, sto sempre dietro di te Io cecchino, tu ammazzito Ma aspetta, 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 mi incerti una cosa Ma hai esperienza? Sannaggia la miseria, come scappa questo? E come, sei livelli Come solo io non ho livelli? Dure, acudezza Madonna Sali qua sopra appena hai finito Oh, ok, ok, posso incantare anch'io forse No, non posso No, io ho visto come che tra poco sta per morire Vuol dire che so io? Quindi a me scomba, fa esserlo Dove sei? Cristiano! Una magna? No, no, no Amma mia Ti sei buttato giù? Si, ricordo che sono morto Quanto minchia stai? Guarda quanto scappa Cristiano No, la lava, la lava merda Mi ha buttato nella lava Mi ha buttato nella lava Mi ha buttato nella lava Ma, cazzo sto pessimo karma, madonna Vai, vi guardo dall'alto Cazzo, minchia la lava Mi dà la spettata Mi dà con l'altra o mi dà? 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 Minchia, sempre ti sfiga Oh, minchia nella lava Sono caduto Ma vaffanculo No, tieni quell'altro diamante Perché ti lasci sempre da solo? Ti guardo dall'altro Sono invisibile E io intanto uccido a tutti Mannaggia, mi è scappato uno davanti alle mani E ci godo? Ma chi è quello là che è scappato? Trafalgar, io sono venuto ad aiutarti Cazzo, sono caduto nella lava Porca puttana Trafalgar, cufi No Ero venuto in tuo soccorso Mi dà il diamante Dai, ho detto Dammi un po' il diamante Dammi un diamante Un pezzo di pelle Ora cazzo Non sei pro Sei proprio insisti Non sei pro Ti avevo trovato anche la pelle Sì, ma ho ucciso a Cristiano Con la spada di diamante Io c'ho la spada di perro bello Ma se c'è la spada di perro bello Ma se c'è la spada di perro bello Ma se c'è la spada di perro bello E c'è anche la spada di perro bello? Tanto vi faccio vedere la mappa dall'alto Che non lo sapevi? No, la spada di perro bello Eh, non lo sapevi? Praticamente si mette la pelle attorno al bastone e da con la spada di perro Vabbè Se stanno parte sopra A vedere se il povero non sa la mamma, no? Cristiano, vieni un attimo da me e dimmi se mi troveranno amati Eh, poi no, mi serve una complotta Eh, no Però guarda che ci dovrebbero essere delle casse nel vittore Sì, sì, te lo sto dicendo già Come ha fatto dentro a questo? Ah, l'avevo invitato io prima Bella E digli che è di uscire per favore Ah Con un po' di violenza Sei tu quello che sta qua avanti? Dammi, dammi, dammi No, non ci so io Cioè, non so se mi credete ma ci ho due cose incantate L'altra che mi hanno toccato E la spada di perro che mi si è lasciata Ok, grazie E' inciantata Il cappello Vieni con me, vieni Ti allargo, ti allargo C'è no, c'è no, c'è tutto C'è tutto, grazie Ragazzi, no, c'è tutto Raga, digli che dopo faremo Atlantide Quindi anche se verranno uccisi ed espulsi Dopo faremo Atlantide Quindi se li invito Raga, come se verranno espulsi Con le famiglian Non vi preoccupate perché risorgerete dalle ceneri Perché dopo giochiamo atlantide Atlantide Dopo facciamo Atlantide Ok il mondo vediamo lo scontro in diretta anna sono alleati ok missione con vita perche' non posso posizionare i blocchi me ne basta uno di posizionare uno solo che ha rotto per colpa del creeper ci sono i due elfi che hanno tutte e due la spada di cristal eh di cristal che cazzo di diamante cristal che è sto cristal aspettate che mi hanno suonato vado vado ad aprire la porta no la notte no ti prego in realtà no perchè lui ti potrebbe tradire da un momento all'altro e che avrebbe pure senso perchè sennò si ritroverebbe contro di te a deathmatch e invece black è più debole credo credo anzi lo cresco io black ma ho gialli e vieni da me che cazzo dai ma non ti tosto ma gialli si viva ancora ma ci sono certi raggiungibili no no per mezzo di parkour però sono raggiungibili no 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 fidati non si può proprio salire si cristiane bene si sto ancora qui un prossimo cammino un prossimo cammino un prossimo cammino mi doi la pelle una pelle mi serve una pelle grazie grazie frate piaccia appa 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 non me la data non me la data non mi ha già detto parattaro la parattaro ma no non mi ha detto per me per me lui dai ora quel gusto parattaro 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 passiva parattaro barattaro tegli adessio in questo punto non credo gli smuoverò finché tipo non rimane la data io mi dico ma perchè tipo non si può unire l'oro col ferro? tipo sarei a cavallo oh no oh ma loro dove stanno? io voglio sfreganare ma dove stai? no ma che oh, ehi frate, uccidetevi in fretta frago uccidetevi in fretta perchè Christian ha detto che tra poco ci sarà il deathmatch la donna santa è un fottuto allora ma chi è che è morto? soltanto Christian i finge solo dai io voglio uccidere eh alleanza alleanza non so dove sei io non mi voglio smuovere da qui piacerebbe fare alleanza faccio alleanza o tutti voi? sopravviva no no e anche contro pietroluci perchè abbiamo tutte basta è molto grande questa mappa io ho l'armatura completa ma che se questa è grande devi vedere il mio di youngergames è il quinticestesimo ne ho trovato uno ne ho trovato uno sciogliete i team ma che laggi di merda ma vabbè facciamo noi due pietroluci che cosa? come siamo? tra noi due no no aspetta ferma ferma no Chris di spade solo di spade solo di spade solo di spade no Chris ti ho detto di no stavo a camperare in un modo assoluto no ma cosa black allianza do una porta ti do una porta no Cristiano ma ti do una porta guardami Cristiano un po' lo stavo per uccidere grazie amore no lo stavo per uccida pietro mancava un colpetto no te lo stavo per uccida io no lo stavo per uccidere dai Chris te l'avevo detto no aspetta fammi ricaricare Cristiano fammi ricaricare la vita Cristiano ma ci hanno c'era tutti la spade in diamante no no fammi ricaricare Cristiano fammi ricaricare Cristiano fammi ricaricare Cristiano va ti amo Cristiano le stavo per uccidere raga sono sciolti di me dai noi c'è più dei controlli di Cristiano 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 aspetta Cristiano deathmatch oh e no 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 non cresca continua dai aspetta Cristiano aspetta Cristiano no no aspetta il deathmatch si continua con i cuori dai continua continua vai un cuore a mezzo dai lo voglio arare un cuore un cuore a mezzo ok ma è ma è facile deathmatch con gli scheletri no con voi lol non ci stiamo beccando per niente prenda adesso si ma quanti cecchini c'ho attorno un po' di più non credo passino questi oh minchia minchia aspetta ah mannaggia figlio nooo solo due siete buoni da dietro solo da dietro è stato ucciso da pessimo karma e what? oh vabbè ma perchè? metti il volare qui chi è che non è stato ucciso? chi sono rimasti? chi è che non è stato ucciso? eh io poker contro non so chi però è rimasto black, pessimo karma e jogger madonna santa poker non jogger poker si ma dai non ci posso credere stavo vincendo contro pietra arrivano sti qua ma vada io ho ucciso uno da dietro non so chi pietro e a me mi ha ucciso pessimo karma eh sei troppa paura che ci vuole mi metti pure invisibile che almeno non rovino this moment dove state ragazzi? veramente li eravamo io c'avevo tutto però stavolta kree nel prossimo hunger game se il diamante lo dà a me basta io ho visto uno dove sei andato a camperare ciao ciao no questo qui è pessimo karma penso fosse pietro ti sto davanti no attento sei invisibile non ti preoccupa sto davanti a te proprio davanti alla tua faccia stai fermo? ah kree adesso tu ti vuole venite bellezza venite bellezza venite venite no no ma non so che mi ha colpito Trafalgar lo so eh non vale ma ha colpito sei jogger tranne due vieni al centro dove sei? solo spade ho tutto non è buono anche spade esistene eh vabbè quindi raga jolly morto pessimo karma ogni volta mamma mia il solito fortunato che vince eh perchè no spè kree vieni qui dove sto io guarda che panoramica ti permetti come screen del video anche se non puoi ehm ehm quindi raga finisco gli saluti un saluto da pessimo karma un saluto pure ciao e un saluto da pocher di jolly bello e cristiano mettimi un attimo che posso te le trasportare grazie ovviamente a te sei arrivato prima no mettimelo e come fine partita ciao 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 ragazzi ciao 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 iscrivetevi ciao 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 ciao